Vediamo se ho chiuso la porta d'entrata. Sì, metà è chiusa. Poi c'è una fissura, uno spirale di luce, dove mi imbuccano la lettera. I viandanti che vanno al parco di Neguana mi imbuccano la lettera. Vediamo domani quale parte leggerò di intimità di un essere umano provocando le sue sensazioni al parco. Ecco, ecco, ho spento le luci. Ma guardate, ma guardate, ho inciampato in un gradino qua. Eccolo, voglio farvelo vedere. Un gradino rotto. Qui ho inciampato. E come ho detto nel video antecedente, ho cozzato la testa. Lì, lì, l'ho battuta. Eccola lì per terra. Lì la roccia che ho battuto, molto dura. E d'altronde il mio stato abitativo è in grotta. Scusate, scusate se la mia voce riecheggia. Certo, certo, catapultare la mia vita in un mese è stato molto difficile. Anche questa mia salita che sto facendo per andare nella camera superiore. Ecco qua che ho cozzato. Qui, guardate ragazzi, ma non c'è problema. Domani ho un'esperienza in più. L'importante è vivere. Oh, mi fa male anche una gamba. Ma stasera c'è che accendo la luce qua. Accendo la luce. Oh, c'è il legno da tirar giù. C'è il legno anche. Oh, voglio accendere una luce. Voglio accendere la luce, la luce, la luce della mia scrivania. Lo scrivano, prima di dormire, scrive il racconto di ogni giorno delle esperienze nuove della grotta. Come ho detto prima, cambiare la propria vita in un mese è stato difficile, ma ora sono quasi abituato. Scusate del rimbombo, della voce un po' più grossa. Ma l'importante è esistere in questo luogo meraviglioso. In questo luogo meraviglioso. E guardare l'albero di Natale. Sì, sono nato con voi, ascoltatori di YouTube, che mi seguite. Buonanotte.